Ciao leggine, ciao leggini, buongiorno e benvenuti a questa nuova lettura. Questa volta la faremo con l'oracolo dei registri akashici e andremo a vedere che cosa inserba per noi l'universo nella settimana che va dal 4 al 10 di maggio. Allora, se volete diventare lettori e lettrici dei registri akashici, sotto nell'info box vi metto il link al corso, perché finalmente è disponibile. Allora, ci prendiamo tre carte. Una, due e tre. Ok, allora, vediamo un po' questa settimana. Inizio della settimana, quindi all'inizio della settimana l'unità. Iniziate questa settimana cercando di raggiungere il più possibile akashici, se avete modo di raggiungerla, se sapete come fare. Questa nuova dimensione. Cercate di connettervi, cercate di meditare, cercate di passare del tempo nella congiunzione. Molte volte, se la vostra anima si sente sfiancata, se la vostra anima si sente poco nutrita, potrebbe essere proprio l'allontanamento da quella che è la vostra fonte. Stiamo andando verso una nuova dimensione, è una cosa ormai chiara a tutti. Questa dimensione è una dimensione di unità, è una dimensione di dove c'è, diciamo, l'amore universale, l'amore cosmico. Io la chiamo akasha, però voi la potete chiamare come volete. Fatto sta che, se avete modo, cercate di stare nelle frequenze vibrazionali più alte. All'inizio di questa settimana ne avrete davvero bisogno. Quando non starete nelle alte frequenze, quindi starete nella polemica, nel questionare, nella divisione, giusto, sbagliato, cattivo, positivo, insomma, tutto questo dualismo, vi sentirete veramente drenate, vi sentirete sfiancate. Allora, io l'avevo detto, io l'avevo detto. Allora, la dimensione di akasha sta tornando, quindi chiunque ha modo di accedere ai propri registri lo faccia. Lo faccia perché in questa settimana avrai bisogno di capire, di comprendere delle cose, di comprendere innanzitutto l'unità, quindi le domande giuste da fare al tuo registro possono essere come posso connettermi con questa unità, come posso andare nella nuova dimensione, quali sono le azioni migliori per me da intraprendere, per armonizzarmi con la nuova dimensione, come posso raggiungere una frequenza vibrazionale che mi faccia vibrare con l'uno, fare delle domande che hai al registro affinché il tuo registro ti possa guidare. Nella nostra scuola, come vi dico sempre, noi abbiamo anche la guarigione akashica, che è una parte fondamentale, quindi nel momento in cui viene fuori questa risposta e tu senti un blocco tra te e il raggiungimento, fai la guarigione immediata di quello che è. Quindi questa settimana, se hai lo strumento dei registri akashici, usa quello. Se non conosci questo strumento, è il momento giusto per avvicinarti se ti senti chiamata e sotto nell'info box ti metto tutte le informazioni. Se hai altri strumenti, puoi usare quelli che vuoi. Però, insomma, è fondamentale che stai con te stessa, con la tua parte interiore che ti aiuta a connetterti con l'unità. Perché se no, diciamo che questa prossima settimana sarà un po' faticosa, perché le vibrazioni che necessiterai sono vibrazioni alte. Perché? Perché torna una memoria delle vite passate. Una memoria importante. Addirittura queste sono memorie di civiltà passate. Probabilmente chi sente forte questa chiamata ai registri probabilmente ha una discendenza atlantidea. È stato nell'antica Atlantide o in Lemuria. Però ci sono anche tantissimi starseed, persone che vengono dalle stelle, che si sentono strani in questo mondo, che si sentono disconnessi. E adesso, in realtà, e questo anche per chi ha fatto il corso di channeling, anche quello vi metto il link sotto, sta in tantissimi che lo avete fatto, state iniziando a connettervi con i popoli delle stelle. Non è un caso. Quindi questa settimana la connessione sarà forte. Guardate che carte. Cioè, nel senso, fanno battere il cuore anche a me. Sono di apertura totale, perché vite passate, noi sappiamo che non sono realmente passate, ma sono vite sincroniche, quindi parallele. Il momento sta giungendo. Se avete ascoltato i consigli di maggio, se li avete letti sul blog, li ho pubblicati mercoledì scorso, vi metto il link sotto, la trasformazione è vicina, ok? E questa trasformazione ti porterà sempre più vicina alla tua unità, ti ridarà il dono dei registri, soprattutto se è un dono che già ti appartiene, e ti aprirà alla memoria di da dove vieni. Quindi sarà una settimana potente. Vivila al massimo, non tirarti indietro, non aver paura, segui il tuo istinto. In qualche modo cerca di unirti alla fonte. Scegli il tuo modo o fai quel passo, insomma, vedi tu. Ma fai sì che tu ti possa riunire alla fonte, affinché, appunto, tu possa arrivare il più vicino possibile al tuo registro in qualche modo, perché è lì che troverai da dove vieni la tua discendenza, il tuo lignaggio, la tua appartenenza, e, insomma, la tua provenienza stellare. Quindi, insomma, una settimana potente. Ti auguro di vivere al meglio, lasciati andare, lascia fluire. Se hai questi strumenti dei registri akashici, usali. Se non ce l'hai, sotto ti dico come fare. Se non ce l'hai e non li puoi avere, affidati almeno all'istinto. Qualcosa arriverà comunque. Mi raccomando, almeno provaci. Tanta, 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 tantissima luce.